ciao ragazzi e benvenuti in questo nuovo video oggi vi vorrei parlare dell'alimentazione per i miei due cagnolini in generale uso gli alimenti anifit ma prima di continuare il video volevo farvi una domanda chi di voi è riuscito a leggere un etichetta dietro una scatola io non ce l'ha fatta e ci ho rinunciato prima di continuare il video volevo presentarmi mi chiamo rosaria e questo è il canale dedicato ai miei due cagnolini cocco e lilla se vi piacciono i contenuti mettete un like se non vi siete iscritti iscrivetevi attivando la campanellina sotto grazie io ho iniziato a leggere le etichette circa due anni fa quando ho preso lilla la mia consulente infatti mi ha fatto notare che nelle altre etichette non c'era scritto tutto il cento per cento di alimenti ma mancavano alcune parti di alimenti e così ho iniziato a leggere le etichette di anifit lì c'è trasparenza infatti i prodotti anifit sono naturali e non sono testati sugli animali questo molto importante ma ora voi potete dire come mai io ora vi sto parlando degli alimenti anifit bene allora per il benessere degli animali è importante l'alimento quindi ho deciso anche di nutrire i miei animali al cento per cento del top di qualità perché nel mercato è vero ci sono tante marche da usare io ho sempre preso una marca qualsiasi anche di posto di basso costo per l'ola che infatti in alcune occasioni ho trovato anche dei pezzettini di plastica e meno male che io usavo sempre la forchettina per poter tagliare la carne quindi l'ho vista e meno male perché se se l'avrebbero mangiato uno dei miei due chihuahua avrei avuto anche problemi comunque è andata così e meno male che non è successo niente non dico la marca ma preferisco ormai chiudere questo capitolo ok nel mercato c'è tanta scelta di crocchette e a volte non sappiamo quale scegliere qual è quella giusta infatti bisogna dover provare alcune marche per poter dire ok questo è buono per il mio cane e questo no da anifit possiamo avere anche una consulenza personalizzata del nostro animale che sia o cane o gatto a seconda dell'età e del peso e se anche intollerante a qualche alimento un altro vantaggio molto importante che è stato per me passare a prodotti anifit è che la merce arriva direttamente a casa in un grande pacco e senza nessun sforzo infatti io ho preso questa decisione circa due anni fa quando eravamo tutti confinati a casa e non si poteva andare nei negozi e voi che alimenti avete scelto per i vostri animaletti sia cani che gatti fatemelo sapere nei commenti e ditemi che cosa ne pensate comunque anifit fa anche prodotti per gatti se qualcuno non vorrebbe più informazioni sono a vostra disposizione per qualsiasi domanda anzi vi posso anche consigliare perché sono diventata consulente anch'io mi hanno anifit naturalmente buoni quando vedo un animale negli occhi non vedo un animale vedo un essere vivente che ha un'anima che ti sa amare con tutto se stesso e così anch'io voglio amarli e nutrirli con tanto amore spero che vi piace il video e vi raccomando iscrivetevi al canale mettete un like e condividete grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti volete sapere se è meglio dare dell'umido oppure delle crocchette secche questo tutto dipenda dal vostro animale ma comunque io preferisco dell'umido anche se coccolino ama le crocchette a lui gli piacciono le crocchette ma il veterinaio mi ha consigliata di dare dell'umido e come farebbe una mamma beh ho provato anch'io a cucinare in casa e fargli delle ottime specialità infatti loro adorano quando io li cucino in casa ma non si poteva fare tutti i giorni quindi mi sono affidata a una consulente anifit che mi ha consigliata un ottimo alimento per loro e questo francamente vi dico la verità si vede anche nelle spese veterinari perché se i nostri cani stanno bene e di ottima salute loro sono felice ma anche io anche il mio portamoneta sta molto meglio se non devo sempre correre dal veterinaio da Anifit c'è tutto c'è una vasta gamma di prodotti da cani, gatti, da crocchette, alimenti secchi, umidi e anche snack sono curiosa di sapere le preferenze dei vostri animali mettete qui sotto nei commenti ecco vi faccio vedere come funziona il sito di Anifit qui siamo già nella pagina iniziale si può scegliere la lingua tra italiano, francese e tedesco l'unico problema è che questi prodotti si possono comandare soltanto per la Svizzera sarebbe troppo complicato farli uscire fuori dalla Svizzera ecco questi sono gli alimenti per cani, l'umido si può scegliere sia in barattolo oppure anche in sacchetto questo poi vale a scelta, c'è il cervo, vitello, coniglio, infatti coniglio è quello preferito dei miei cani ci sono anche alimenti per i gatti ecco qui i snack dai più piccoli ai più grandi cagnolini quello preferito di Coccolino è questo qui un corno di bufalo ovviamente questi sono prodotti svizzeri che posso comandare solo qui ma se qualcuno è interessato a farmi provare dei prodotti speciali italiani benvenga, sono ben accetti e volentieri dovete ormai nascondere quel corno di bue grazie a tutti 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 per chi non conosce i prodotti Anifit sono alimenti naturali e pronti al consumo per cani e gatti così il tuo animale di compagnia rimane in forma giorno dopo giorno per tutta la vita a volte ti trovi in un po' perplesso di fronte a lunghi scaffali di cibo per cani e gatti e chiedi ma cosa sia meglio acquistare per il tuo animale? la scelta è ampia e molto diversificata ma cosa contengono questi prodotti? cosa è buono e cosa non è buono per il tuo animale? beh, noi siamo qua per consigliarti cosa è migliore per i vostri animali il fondatore di questa azienda si chiama Michel Justich e ha fondato questa azienda nel 2001 in questi cibi ci rende unici solo materie prime nel rispetto dell'ambiente e senza esperimenti sugli animali se anche tu vorresti provare questi prodotti e vivi in Svizzera ti lascio qui sotto il forum per riempire il formulario e ti manderò un campioncino direttamente a casa per provare spero che vi piace questo video io con questo vorrei chiudere e spero di sentirci presto vi raccomando mettete un like e condividete e iscrivetevi al canale se non l'avete già fatto con questo vi saluto e al prossimo video ciao! 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 ciao!